Giovedì 9 settembre 2017 l'Associazione Liberi Cittadini 5 Stelle ha organizzato presso l'hotel Abruzzi un tavolo di lavoro con il responsabile dell'esperimento SOX il professor Pallavicini Marco e la figura competente dell'Associazione la dottoressa Gualdambrini Fidalma esperto fisico qualificato di terzo grado. Dopo il tavolo di lavoro l'Associazione ha aperto un pubblico confronto con giornalisti e cittadini per dare le giuste informazioni circa questo esperimento degli NFN. Il professor Pallavicini è intervenuto spiegando nei dettagli come verrà svolto l'esperimento SOX e ha dato informazioni riguardo la sorgente radioattiva che giungerà in primavera nei laboratori del Gran Sasso rassicurando i presenti sulla totale sicurezza di questo esperimento. L'Associazione Liberi Cittadini 5 Stelle tuttavia ritiene opportuno sospendere l'esperimento SOX anche se questo come dichiarato dagli esperti è completamente sicuro e non costituisce fonte di inquinamento radioattivo. Per far sì che la sospensione avvenga l'Associazione è in costante contatto con il direttore dei laboratori il professor Ragazzi Stefano. Il motivo alla base della richiesta di sospensione è innanzitutto quello di mettere prima di ogni altra attività in sicurezza il sistema di captazione delle acque del Gran Sasso e poi quello di placare le crescenti paure dei cittadini in seguito a un lungo periodo di incertezze ed emergenze tuttora in atto. L'Associazione con questo e con futuri incontri intende dare la massima informazione e divulgazione ai cittadini ed è certa che la paura si sconfinga solo e ad attraverso la conoscenza.